Salve a tutti amici, in questo video vediamo come trovare del legno su Pokémon Arceus, utile ad esempio per costruire il Poké Kokeshi. Non è assolutamente facile trovare del legno, ma bisogna semplicemente girare per agglomerati di alberi, o anche singoli alberi, quindi qualsiasi livello della mappa, basta semplicemente girare. Ora, capisco che non trovandone mai, voi magari non sappiate com'è fatto dove si trova. Allora, non bisogna fare niente, si trova per terra accanto agli alberi, e adesso vi faccio vedere com'è fatto. Ecco qua, il primo componente di legno l'ho trovato per terra qui. Ecco qua, quindi ha questa forma, lo prendiamo, e qui ho avuto una fortuna più che sfacciata, poiché proprio più avanti, proprio entro un minuto, ho subito trovato il secondo componente di legno, ma è fortuna e basta, poiché è difficilissimo, infatti io ancora non ho trovato il terzo componente di legno. Andiamo avanti, e faccio vedere che l'ho trovato poco più avanti. Ed eccolo qua, quindi due componenti di legno trovati. Ora me ne serve un altro, riuscirò a trovarlo, chi lo sa ci ho messo 20 minuti ancora, non ho trovato niente, quindi pazienza e basta. Adesso sapete com'è fatto il legno e come trovarlo. Un saluto!